Momenti di tensione, sabato scorso allo spazio autogestito Grizzly dove intorno alle 21.30 i carabinieri con i Nass di Ancona, una pattuglia della polizia e un'auto della finanza si sono presentati alla porta dell'immobile, in via della colonna, ancora di proprietà del demanio e occupato abusivamente. I ragazzi che stavano cenando in attesa di un concerto di Frida Neri, organizzato nell'ambito del secondo festival dell'editoria indipendente, hanno deciso di baricarsi all'ingresso del centro sociale a braccia incrociate per impedire l'ingresso alle forze dell'ordine. Dopo una lunga attesa, durata quasi tre ore e una decina di persone controllate, è iniziato un altro controllo per verificare le condizioni igienico-sanitarie, risultate poi conformi alle norme previste. Dopo questo episodio, l'opposizione fanese chiede compatta al sindaco Massimo Seri di ritirare la delega alla legalità all'assessore Samuele Mascarin. Le parole dell'assessore Mascarin ci lasciano stupefatti, infatti dice che l'immobile del demanio al vallato, occupato e autogestito, quando passerà al comune di Fano, si dovrà verificare per questo immobile la possibilità di ricondurre lo spazio autogestito Grizzly nel rispetto delle regole, così che le attività possono svilupparsi senza amiguità. Peccato che queste parole siano state smentite già più volte in consiglio comunale dallo stesso sindaco Seri, che ha detto che mai avrebbe sanato una occupazione abusiva. Noi non abbiamo assolutamente nulla contro questa attività di ragazzi che gestiscono il loro spazio politico, ricreativo e via dicendo, però bisogna farlo nella legalità. Penso che sia giusto per tutti. Una volta che il comune revrà in possesso questo spazio, secondo noi invece dovrà ripartire tutto secondo legge, cioè probabilmente un'offerta con bando pubblico di questo spazio senza corsie preferenziali. Questa la legge prevede e quindi questo dovrà essere applicato. Quindi noi auspichiamo che addirittura, giustamente, il nostro sindaco, oltre a ribadire la sua contrarietà alle parole dell'assessore, tolga a questo punto la delega lo stesso mascherino sulla legalità, perché veramente di legalità con mascherino ne stiamo veramente vedendo poca. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle attende d'altra parte anche le dimissioni del Presidente del Consiglio, Renato Claudio Minardi. Questo è un balletto abbastanza curioso quello di Minardi. Minardi si dimette, Minardi non si dimette, ma c'è una scommessa nella scommessa. Addirittura, oltre al fatto che probabilmente si dimetterà da Presidente del Consiglio, sembra invece che come consigliere comunale non si dimetterà, mantenendo quindi anche le cariche di consigliere regionale e vicepresidente del Consiglio regionale. Quindi già tutte queste parole possono far capire veramente come per Minardi la corsa alle poltrone sia il suo primo sport. Ma noi ci chiediamo come mai Minardi non si dimette anche da consigliere comunale e quando arriverà veramente finalmente l'annuncio della sua dimissione da Presidente del Consiglio comunale. Beh, questo è molto semplice. Il PD ancora non si è messo d'accordo per far occupare la poltrona che si libererà come Presidente del Consiglio comunale e soprattutto, secondo noi, teme l'entrata in Consiglio comunale da parte di un consigliere appunto del PD non gradito. Io invito tutti ad andare a ricercare magari tra l'elenco dei non eletti del PD chi potrebbe capitare se Minardi si dimettesse eventualmente come consigliere comunale.